Ecco qua, oggi la signora Tiziana è venuta a fare solo il suo trattamento benessere, la piega clamore, perché dato che ha fatto il suo abbonamento, gli stiamo ricostruendo il capello. Come ti sembra Tiziana? Tutto a posto? Assolutamente sì, il capello è molto più intenso sia come colore che come densità, è molto luminoso e sono molto soddisfatta. Io ti ringrazio, sembra che hai fatto ancora la sfumatura Illuminash, invece no, l'abbiamo ricostruito bene, pronta per andare tutti in vacanza. E certo, devo andare tutti in vacanza, quindi anche la punta, bella curata. Sì, assolutamente, pronti per le vacanze e poi vediamo quando torniamo come le ho riuscito a ridurmi, però Melin me le risestema. Certo, io sono qui a posto a risolvere i problemi, c'è anche lei, Tiziana, grazie amore mio. Grazie a lei.